Il racconto di Gatsby in Rome parte naturalmente dal libro meraviglioso che conosciamo tutti, che ha portato all'altrettanto meraviglioso film con Redford e Mia Farrow. Io ho immaginato di poter raccontare a Roma negli anni venti ambientandolo nei luoghi storici, della memoria storica romana, la piazza di Spagna, la rotonda piuttosto di Ostia sul mare, facendo proprio un viaggio che potesse essere molto visionario, molto nostalgico, dove Long Island diventa Roma e che ci consente di poter vivere anche quella stagione di bellezza, di eleganza e di grande fascino.